Dodicesimo posto per Donato Toma nella classifica sul gradimento dei governatori di regione messa a punto dall'Istituto di Sondaggi di Antonio Noto. La ricerca è stata pubblicata dal Sole 24 Ore e vede sul podio il trittico dei presidenti leghisti, Zaia del Veneto, Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Fontana della Lombardia. Toma un anno dalla sua elezione ha perso il 6,2% dei consensi scendendo dal 43,4% al 37,2% e precede il governatore della campagna De Luca mentre subito prima di lui c'è Mario Oliverio, presidente della Calabria, recentemente coinvolto in un'inchiesta su presunte irregolarità sulla gestione di appalti e a cui proprio in queste ore è stato revocato l'obbligo di dimora. Zaia che non è nuovo al primato in questa graduatoria è al 62%, ha avuto un incremento dell'11,9% rispetto al giorno delle elezioni, Fedriga è al 51,1% e Lombardo Fontana al 49,2%. Ai piedi del podio altri due esponenti di centrodestra neo eletti nel corso dell'ultimo mese, Marsilio 48% presidente dell'Abruzzo e Solinas 47,8% della Sardegna. Il primo presidente di centro-sinistra è Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna con il 44,2%, anche se diminuiscono i suoi consensi del 4,8%, segue Enrico Rossi della Toscana che è al 42,6% con un decremento del 5,4%. Il presidente della Liguria Toti è ottavo in classifica col 39,2%, seguito da Zingaretti che conquista il 38,8%. Il sondaggio è stato effettuato su 16 regioni durante il mese di marzo 2019, quindi escludendo Trentino e Valle d'Aosta, Basilicata e Piemonte che è chiamata alle urne il prossimo 26 maggio. Il governance poll del 2019, ha commentato il direttore Antonio Noto, autore di questa ricerca, rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista delle elezioni europee. Infatti il dato politico è che per la prima volta i cinque presidenti in cima alla classifica sono tutti appartenenti a un'unica coalizione, il centrodestra. È da notare, e conclude Noto, che al momento nessuno dei presidenti in carica appartiene al Movimento 5 Stelle. No, però l'ha fatto bene ricordando che molto spesso, preso da problemi effettivamente molto più importanti e più pressanti, sfugge anche la meritocazia. Sì, io ho un motto.